La domanda è qual è il modo corretto di fare Ho'oponopono? La risposta è non esiste un modo scorretto di fare Ho'oponopono se la nostra intenzione è quella di riarmonizzare la nostra interiorità, cioè di ripulire le nostre memorie, quindi di trasmutare la polarità energetica che attribuiamo ai blocchi emozionali che ci rallentano e quindi di riarmonizzare tutto dentro e fuori. In qualunque modo noi lo facciamo è corretto, giusto ed efficace.